Musica Più controlli nei luoghi dove viene esercitata la prostituzione. A comunicarlo alla questura di Firenze, a seguito dell'omicidio di Cristina Andrea Zanfir, la donna di origine romena trovata crocifissa sotto il cavalcavia di Uniano, tra Firenze e Scandicci. Sarà la diocesi di Firenze a pagare i funerali, a seguito dei quali la salma sarà trasportata in Romania. Intanto proseguono le ricerche del furgone su cui, secondo alcune prostitute aggredite, si muove il maniaco. Questa faccenda del furgone bianco compare da più parti, però adesso siamo a 360 gradi, può esserci tutto il contrario di tutto. Il maniaco, secondo i racconti delle vittime, sarebbe un uomo tra i 50 e i 60 anni, tarchiato con pochi capelli e lo sguardo all'apparenza rassicurante. I carabinieri hanno individuato lo stesso DNA sul nastro utilizzato in tre precedenti aggressioni. Quello di episodi passati è disponibile. Su quello recente stiamo valutando, stiamo cercando, con incarichi affidati ai laboratori esperti, se riusciamo a trovare tracce di questo DNA. Il questore ha definito il maniaco una bestia, ma non ha voluto dare altri dettagli sulle indagini. Noi abbiamo bisogno di lavorare nella massima tranquillità possibile, per cui capisco il vostro lavoro, capisco la pressione mediatica, che a noi non fa bene, non fa bene all'indagine, non fa bene alla serenità dello svolgimento del nostro lavoro. Il questore ha espresso solidarietà ad un rappresentante del console della Romania, da parte della comunità fiorentina. Domenica 18 maggio, indicativamente tra le 9 del mattino e mezzogiorno, circa 7.000 cittadini di Sesto Fiorentino e 200 di Calenzano saranno costretti a lasciare le loro case per far spazio agli artificieri dell'esercito del nucleo di Bologna, che dovranno disarmare questa bomba inesplosa, ritrovata il 13 marzo scorso in via Lino Chini a Sesto durante i lavori in un cantiere d'Ile. Una procedura effettuata più volte ci ha tenuto a precisare il prefetto di Firenze, Luigi Varratta, che ha anche garantito che le operazioni si svolgeranno in totale sicurezza. Per fare questo si rende necessario sgomberare l'aria in un raggio di 500 metri e anche in altezza, quindi ci sarà disposto anche il divieto di sorvolo. Oltre ovviamente al divieto di transito per il traffico automobilistico civile nell'intera area. A dare il via alle operazioni di evacuazione sarà la sirena della Ricci Arginori. Da quel momento i cittadini di Sesto e Calenzano dovranno abbandonare le loro abitazioni. Le abitazioni che saranno lasciate vuote non saranno controllate, vigilate, sorvegliate dal personale delle forze dell'ordine con anche la collaborazione della Polizia Municipale per evitare che qualche malintenzionato faccia incursioni indesiderate. Se la Toscana avrà in tempi brevi un suo polo aeroportuale integrato gestito da una unica holding o meno, lo si saprà probabilmente sabato 10 maggio prossimo. In quella data infatti i soci pubblici, che insieme detengono il 54% del capitale azionario di SAT, la società che gestisce l'aeroporto di Pisa, torneranno a riunirsi per decidere se vendere parte delle loro quote al magnate argentino Eduardo Eurnekian oppure no. In quell'occasione si assisterà al faccia a faccia tra il sindaco di Pisa Marco Filippeschi e il governatore della regione Enrico Rossi, che al momento sono su posizioni opposte. Se il primo infatti continua a ritenere inadeguata l'offerta di 13,05 euro ad azione arrivata da Eurnekian per rilevare le quote di Pisa, che di fatto sottostima l'aeroporto pisano rispetto a quello fiorentino, il secondo ha deciso di accelerare la vendita delle azioni in mano alla regione, ovvero il 16,9%. Secondo Rossi, infatti, l'occasione di avere un investitore industriale che ha già speso 70 milioni di euro ed è pronto a un ulteriore sforzo per ottenere la maggioranza nelle due società di gestione, non può essere vanificato in nome dei localismi. Per provare a mettere d'accordo tutti, Rossi ha chiesto alla società argentina Corporazione America di presentare delle linee guida perfettibili che disegnino il futuro dei due scali. Pisa manterrebbe così il low cost e la previsione di sviluppo per il lungo e medio raggio, mentre Firenze vedrebbe rafforzato il suo ruolo di business airport e, grazie anche alla pista di 2400 metri, potenziate le tratte intraeuropee.